Marco Camisani Calzolari per l'impegno profuso nella tutela della cyber security contribuendo così alla prevenzione dei maggiori reati informatici che attanagliano il web sempre condividendo i valori propri dell'istituzione nella certezza che attraverso il suo instancabile operato continua ad essere ambasciatore in ogni tempo dei modelli valoriali cui si ispira la polizia di stato grazie per me oltre ad essere un grande onore è un invito soprattutto a fare di più per la sicurezza e per la tutela oggi di chi usa la rete di chi utilizza internet di chi anche come i ragazzi voi in fondo la vedete come una grande opportunità ed è una grande opportunità ma è fatta anche di rischi per voi e per chi vi sta vicino a volte si dice che siete nativi digitali sì lo siete ma dal punto di vista di quello che sta davanti dietro c'è molto da sapere e voi siete i primi i primi più esposti peraltro e io vorrebo ringraziare soprattutto la polizia la specialità della polizia postale che voi non avete idea di quanto ci difenda e di quanto oggi sia davvero in prima linea oltre a essere come dire no davvero oltre a essere pioniera sono stati i primi oggi ogni giorno che qualcuno visto che gli attacchi sono sempre di più non è attaccato da da qualcosa o da qualcuno probabilmente dietro magari c'è anche un po' di polizia postale ed infine striscia la notizia perché mi ha dato uno spazio che mi permette di arrivare a persone che comuni a tutti anche a quelli non necessariamente interessati a questi temi grazie a tutti davvero grazie Marco Camisani Calzolari congratulazioni